ma bello a tutti ragazzi oggi questo è un video a cui ho un ex che ruola e oggi non siamo su minecraft siamo su fifa14 oggi vi farò vedere il mio club su fifa14 non contate che sono diviso in effetto ma non c'entra e adesso vi faccio vedere una rosa sarebbe questa oro bronze che è buggata che ciao di santis linelli david luis anche se non c'è l'intesa però qui ho messo un cc perché non c'è stato il ts ho messo jeser rodriguez calecon un bronzo nez ulc iguain e close e poi anche l'abbiamo miranda e non ve lo faccio vedere adesso trasferimenti vado a guardare mi trovo subito subito no 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 subito vorrei andare a vedere un po per favore ma mi stavo prendendo qua vabbè come trovo il mio club voi adesso quando vedrete il mio club direte eh ti sei comprato giocato si ovvio che mi sono comprati però vuol dire te ti sei comprato con i soldi si sei preso con i crediti no lo spesi tipo tutti a poco niente perché io non sono quella gente che spende soldi per prendere crediti e per prendere i live a me piace così se riesco a prenderlo riesco se no 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 che fai 3 3 2 1 adesso fa schifo allora ulc De Rossi, Igoe, Kruse, Manzokic, Fernando Torres, Jose Luis, Miranda, De Golves, De Santis, Koke, Lima, Ranocchia, Calejón, Armero, Michael, Gianni, Florenzi, Rieser Rodriguez e Zuniga. Che è un... che è bancato Zuniga. E poi c'è Casimero, queste cose. Poi ci sono tutti i librondi qua, ovviamente. Ovvio, no. Michele Sperto. Più avanti, in qualche... se riesco a vi porto. Faccio un altro account e vi porto le roto di Vision One. Non così, dovete arrivare proprio tutto da zero. Cosa almeno voi avete... Se lo volete, le roto di Vision One arriva almeno a 4, mi piace, 4. Se no, niente. E niente, le mie maglie sono... In Inghilterra, non c'è niente. Allora, vado a cercare le mie maglie, arrivo subito. Ok, ecco, c'è tutta la mia maglia. Sì, la barilla italiana della Roma. Ho 3 giocatori, ho 4 giocatori della Roma. 3 italiane, 1 brasiliana, perché... Ci sta. Poi dovrebbe essere ci, così, nel Milan? No. Oh, questa è... No, basta, 61. Ma forse aveva anche l'altro, non seria. Ma forse è una spagnola? Mi ricorda male. No. Ho due giocatori del Real Madrid. Sì, sì. E niente. Questo era il mio club. Io spero che questo video sia piaciuto. Se volete, le roto di Vision One. Mettete mi piace. E... E niente, bello! Sì, bello!